La domenica ventottesima per annum ci presenta un tale che va da Gesù e gli pone la domanda Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? È una domanda fondamentale, una domanda che ci facciamo un po' tutti noi. In fondo questo tale che va da Gesù potrebbe essere ciascuno di noi. Perché? Perché tutti desideriamo la vita buona. Ma la vita buona è il risultato anche di quanto noi viviamo, di quanto noi facciamo, di quanto noi decidiamo. E quindi in un modo o nell'altro tutti noi ci domandiamo come impostare la nostra vita. E la vita buona non è il risultato di qualsiasi scelta, di qualsiasi decisione. E allora abbiamo davanti a noi due questioni fondamentali. Primo, quali sono gli orientamenti fondamentali della nostra vita, quelli giusti, quelli buoni, quelli che ci danno una vita buona. E secondo, a chi poniamo questa domanda? Perché non tutti sono in grado di orientarci sulle scelte esattamente positive della nostra vita. Ci sono anche imbroglioni, ci sono illusioni e ci sono anche illusioni che possiamo farsi noi. Quindi abbiamo bisogno di qualche guida. E di fatto in una maniera o nell'altra, consciamente o inconsciamente, tutti noi scegliamo una guida. Quel tale del Vangelo sceglie la guida buona, sceglie Gesù. E poi, che cosa devo fare? E Gesù indica qui i pilastri fondamentali di ogni vita, di ogni relazione. Perché senza relazioni buone non abbiamo una vita buona. I comandamenti, i comandamenti sono i pilastri fondamentali, i segnali che indicano esattamente dove è e qual è la direzione di questa vita buona. E questo tale dice, io i comandamenti li ho sempre vissuti. Bene, è un buon uomo. Ma basta questo. No. Importante è come noi viviamo anche ciò che di buono e di giusto facciamo. Cioè il cuore che ci mettiamo, l'interiorità che viviamo. Questo tale era troppo legato, pur facendo cose buone, osservava i comandamenti, era troppo legato ai beni materiali. E qui troviamo un'altra indicazione. I beni materiali servono alla vita, ma possono diventare un ostacolo alla vita buona. Quando ci chiudono sul nostro egoismo, quando diventano un attaccamento sbagliato, quando diventano l'orientamento e la ricerca fondamentale. Danno la vita, ma possono togliere la vita buona. Gesù indica esattamente questo. Purtroppo questo tale è talmente legato a questi beni materiali che perde la propria vita. Ne vale proprio la pena?